Buongiorno a tutti ragazzi qui è Giovedren e Santa e ben ritrovati nel mio canale Oggi signori siamo qui finalmente tornati con il secondo episodio con la carriera allenatore su FIFA 20 Nel primo video abbiamo fatto il calciomercato e abbiamo preso ben 3 giocatori Sulla destra abbiamo preso Arnold, lì davanti anzi lì in mezzo abbiamo preso Ames con Mertens che è salito appunto a fare la punta E in panchina abbiamo preso Moscardelli, un acquisto giusto per divertirci e in realtà veramente avevamo bisogno di un'altra punta visto che su questo gioco Llorente ancora non c'è Prima di andare avanti vi voglio dire cosa faremo in questo video ovvero finiremo tutto quanto il calciomercato e giocheremo ben 2 partite Perché bisogna sfidare la Juventus di Cristiano Ronaldo e di Sarri e poi c'è la partita contro la Sampdoria quindi vorrei arrivare appunto fin qui E' uscito anche il girone di Champions che ha il Silkeborg, ok, il Liverpool e il Paris Saint Germain Cos'è? Cioè scusatemi un attimo, Liverpool e Paris Saint Germain Non è che mi hanno messo lo stesso girone copiato e incollato dell'anno scorso? Perché appunto siamo sull'accesso anticipato e quindi hanno fatto un copia e incolla Vabbè, Liverpool e Paris Saint Germain, benissimo, era meglio non vederlo ragazzi, era meglio scoprirlo dopo senza appunto rovinarci questo video fin da adesso Comunque se vi ricordate, altra cosa molto molto importante, Isai purtroppo ci ha chiesto di giocare ma avete visto com'era la partita ragazzi? Non potevo mettere Isai, volevo fare dei cambi per vincerla e quindi ho messo Lozano, ho messo Moscardelli, ho messo anche Zielischi appunto per avere qualcosa in più lì davanti Isai si è preso Coller e ci dice, ci sono rimasto male per non aver giocato, so che la decisione finale spetta a lei ma sono convinto che avrei potuto fare bene E lo so, il turnover è importante, non montarti la set, la testa, ma no, Pomerino non ha fatto niente Continua a lavorare sotto, dai Isai, dai, ho provato a cambiare qualcosa in ultima partita ma tu continua ad allenarti duramente perché ti voglio al top della condizione nelle prossime settimane Va benissimo così, va benissimo così, offerta per Dries Mertens rifiutata, Dries Mertens non se ne va, Mertens gioca e quindi va bene così Avanziamo, siamo arrivati signori alla partita contro il Piemonte Calcio e voglio partecipare alla conferenza Ovviamente si può anche non partecipare però visto che siamo all'inizio e visto che siamo in un big match, in un big match come quello contro il Piemonte Calcio Voglio partecipare e voglio vedere un po' che cosa mi chiedono i giornalisti Avete disponuto una buona stagione finora? Ci sono tutti i presupposti per andare in Champions League il prossimo anno Riuscirete a dare continuità a questi risultati? Certo, tutti i giocatori devono fare la loro parte, tutto può succedere Certo, voglio essere molto molto positivo, certo, secondo me possiamo assolutamente farcela a raggiungere i gironi di Champions League anche nella prossima stagione Come siete preparati la sfida con i riposti primari della squadra Piemonte Calcio? Eh, il Piemonte Calcio è una grande squadra, siamo pronti, i ragazzi devono fare meglio, no, siamo pronti ragazzi, siamo pronti Non voglio dare risposte troppo pesante, troppo cattive Abbiamo fatto tutto il possibile per andare a questo match a top della condizione, credo di star dandovi di dare delle risposte adeguate Se siamo stati attivi sul mercato a mettere a segno 3 acquisti, dobbiamo aspettarci qualche eccessione da qui alla fine? Eh, può essere, può essere Siamo costruendo una squadra vincente, abbiamo perso, abbiamo preso i giocatori che ci servivano, siamo coperti in tutti i ruoli Sì, questo è giusto, siamo coperti in tutti i ruoli, quindi possiamo dire di sì, sinistra c'è Mario Rui, Goulam, centrocampo si è messi benissimo Quindi sì, siamo coperti in tutti i ruoli E il morale della squadra ragazzi è passato da felice a molto felice Attenzione perché forse questo potrebbe fare la differenza nella partita con la Juventus, non lo so, anzi con il Piemonte Calcio, scusatemi Fatto sta che la conferenza stampa è finita e prima di giocare voglio fare un cambio di modulo perché voglio passare al 4-3-3 offensivo Ovviamente gli interpreti non cambieranno, resteremo sempre così con Caglicone a destra, Mertens, Insigne, Ames, Fabian Ruiz e Allan Sono tutti quanti molto molto felici, questa volta ragazzi mi porto anche Milik in panchina perché sì, ci stava a scherzare mettendo Moscardelli Però se Milik sta bene ovviamente bisogna far giocare Milik, facciamo i seri Per il resto ragazzi formazione confermata con Arnold a destra e Goulam a sinistra, Isai ancora in panchina Detto questo non perdiamo altro tempo, 31 agosto 2019, andiamo a giocare anche questa partita Confermiamo ancora la difficoltà ultimate, questa volta voglio la maglietta azzurra, la Juventus Purtroppo questa maglia è orribile, la voglio gialla ragazzi, gialla la Chievo Verona, sì così, avanziamo, vai Ci siamo signori, non siamo neanche all'Allianz Stadium, siamo all'Allianz Piemonte Calcio Veramente uno stadio che mi sa tanto di, anzi no, sembrava brutto lo stadio però va bene Ci sta ragazzi, bellissima la coreografia con un colore anche un po' strano che ricorda il rosa Però va bene, inizia adesso comunque, le squadre sono in campo, scripiamo tutto che abbiamo già visto tutto Nella prima partita, Cristiano Ronaldo sbuffa e inizia adesso Piemonte Calcio Napoli Sono due mesi che sogno di dire questa frase, via Oh Toni Cross alla Juventus, non me ne sono accorto ragazzi, l'ho pronunciato però non me ne sono reso conto Toni Cross alla Juventus, alla faccia del calciomercato e alla faccia del Piemonte Calcio Asensio, eh vabbè ragazzi ma che calciomercato ha fatto la Juventus, scusatemi Asensio Toni Cross, occhio, Di Bala di testa, sì ci manca solo che Di Bala mi segna di testa E poi veramente abbiamo vissuto in questi 11 minuti Cristiano Ronaldo, ancora loro, pallone dentro, Curribani, cosa ha salvato Curribani? Ha salvato un gol, KK, Cristiano Ronaldo, Di Bala, Asensio Chiudi, 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 troppo spazio ragazzi, troppo spazio, troppo spazio Di Bala, Sinistro, Red, Di Bala, Mask Puniti al 24esimo, mamma mia Arnold, 27esimo, Arnold, guarda in movimento Bello di Allan, fino in fondo, Allan, sezzata, ma tira dentro Malissimo, ancora noi però Arnold, prima per Fabio Ruiz, che ha un bel tiro Però non tirare, appoggia, di prima Insigne, insigne, anti-Allan, drive shot, sbagliato Di Allan, era difficile segnare da quella posizione Madonna, faccio veramente fatica a difendere Faccio fatica a difendere su questo gioco Di Bala, numero, Di Bala, Di Bala, Di Bala, Di Bala, Di Bala, Di Bala Parata di Meret, mamma mia, qualcuno fermi di Bala, Meret si nervosisce Meret Mamma mia, calcio d'angolo per la Juventus Ma così non ci siamo, così non va bene ragazzi Così non va proprio bene Pjanic, finte, due di recupero Se riusciamo a recuperare palla magari Manolas allarga dall'altro lato E mi sa che l'arbitro fischia la fine della partita Perdiamo 1-0 contro la Juventus Vediamo un po' cosa ci dicono, dai questi qua Meret non è stato all'altesa delle aspettative Non ha fatto molto oggi per aiutare la squadra a vincere Questo avrà un impatto sul suo impegno dall'inizio delle prossime partite Nessuno è posto assicurato, sfrutterà l'occasione, alti e bassi Nessuno è il posto assicurato, ovviamente E Mertens cala E cosa avrei dovuto dire? Credi che specchi l'andamento del match? Dai Tris, mi dispiace per Mertens Direi di sì È ovvio ragazzi, abbiamo meritato di perdere E scendiamo anche Mertens Eh ma bisogna essere onesti Non siete riusciti a reagire Come mai? O ci stanno distruggendo? La mia squadra è più forte di quello che vuole insinuare Sì, la mia squadra è più forte E lo dimostreremo contro la Sampdoria Grazie e chiudere qui È meglio che chiudi, va Sennò ti mettevo le mani addosso Vattene via Ultime 10 ore di mercato Avanziamo E vediamo se arriva qualcosa Pogba al Real Madrid E a Warr imprese dal Wolfsburg Come imprese dal Wolfsburg? Ho fatto per Isai intanto ragazzi Isai lo potrei vendere in teoria Isai Perché c'ho anche Di Lorenzo in teoria E se vende Isai Forse riesco a prendere un terzino sinistro Per Isai posso chiedere 27 milioni Trattiamo con il Port Vediamo un po' se riusciamo a chiudere a 27 Altrimenti mi sa che restiamo così Oh, siamo tornati nell'ufficio? Cos'è? Mi è mancato questo ufficio Cavolo Anzi non è vero Lo sto odiando Era Mi ero così affezionato A quel loft Sul grattacielo Al settantesimo piano Perché questo cambio di location? Comunque 23 e 1 Potrei accettare ragazzi Eh Potrei anche accettare sinceramente 23 e 1 25 Ma è l'ultima offerta Poi accetto i 23 E loro hanno accettato anche i 25 Va benissimo così Ok Ci sta Tutino invece non si vende Tutino è ottimo per il turnover A meno che non riusciamo poi a pagare la clasula recissoria di Joe Felix 74 milioni Mmm Lo posso vendere Tutino Raga cosa dite? A T A D A T Non giocherà mai A destra c'ho pure lo zono Kayekon Vendiamolo Ok ho cambiato idea ragazzi Tutino ho venduto Ho cambiato idea Vediamo un po' quello che riesco a fare Siamo tornati nel grattacielo intanto Bene Mi sento più a mio agio qua 16 milioni Secchi per Un ass Cosa ci dicono? Dovete accettare Sono anche pochi forse per un ass Vediamo E infatti è così Hanno accettato Va bene ragazzi Sono fidato del prezzo massimo Che mi ha suggerito la società Va bene A questo punto non ci resta che avanzare E sperare che tutti e tre Vengano ceduti Se in esatta solo uno Non riesco poi più A prendere Joe Felix Ok Quando scommettete che rimango fregato all'ultimo Sono sicuro al 100% Avanziamo Stop le trattative per Isai Lo sapevo che per Lo sapevo Isai Lo sapevo Non ha digerito il fatto Che non l'ho fatto giocare con la Fiorentina Isai Però offerta Dal Narsenal per Isai Ti prego Isai Ti supplico Non ti vogliamo Isai Come te lo devo dire? Non ti vogliamo Vattene via Arrivano delle mail Un ass venduto Tutino venduto Ok Offerta per Isai Ancora dal Bagliar Monaco Isai Devi accettare una delle due Isai Devi accettare solo una delle due Non puoi deluderci così Isai Ti prego Stop le trattative per Isai Però Isai venduto Romano venduto Ok fermi tutti Perché Andiamo a pagare La clausola Recissoria Di Joe Felix Ma la clausola di Joe Felix Non era 74 milioni Però costa di meno Joe Felix Ma si è appena aggregato È di 74 E non si può trattare Isai Torna qua Isai Stavo scherzando Isai Vieni qua Stavo scherzando E non ho fatto i calcoli Con la calcolatrice Porca miseria Allora signori Abbiamo deciso Di fare un altro acquisto Solo che Tutti i terzili Silistri Della storia di Pifa Hanno cambiato squadra Molti li vedete qui Altri invece Non li ho neanche messi Nella lista Uno In particolare Che mi ispira È Alexandro Che è in scadenza E che si può prendere Praticamente Per 30 milioni Di euro Dal Piemonte Calcio Quindi andremo anche Ad indebolire Una nostra Assunto diretta Concorrente Andiamo a trattare Subito con la Juventus E cerchiamo di strappare Appunto Il grandissimo Terzino sinistro Valore attuale 33 Proviamo con 30 milioni secchi Speriamo che non si arrabbi Perché ovviamente Non possiamo poi Più Avere il tempo Per poter rifare La controfferta Ma va bene così Accettiamo I 33 milioni Per Alexandro Ce lo portiamo a casa Grandissimo Terzino sinistro Ovviamente Andiamo a trattare Con lui Per quanto riguarda Lo stipendio Ignoriamo la clausola Recessoria Che lui ne chiede Chiede la clausola Di 54 E io gli nego La clausola Recessoria E' troppo poco 54 di clausola Io ti ho preso A poco prezzo Perché è di scadenza Altrimenti Alexandro Gli poteva anche valere 50 milioni E per quanto riguarda Lo stipendio Molto abbassato Ragazzi La metà Rispetto a quando Guardate alla Juventus E poi 4 milioni Per quanto riguarda Le reti inviolate Accettiamo Non restiamo 25 Partite senza subire gol Speriamo Altrimenti mi faccia autogolli In ogni partita Comunque Preso Alexandro A questo punto ragazzi La rosa Titolare Del Napoli E' questa I giocatori sono stanchi Perché abbiamo appena giocato Gulam va in panchina Al suo posto Dentro il grandissimo Alexandro Che appena ha giocato Proprio contro di noi Per il resto Mario lui va in tribuna Dentro Gulam Ma ovviamente ragazzi Anche loro avranno Degli spazi Quindi non vi preoccupate Questo qui è il Napoli Arnold e Alexandro A destra Ames Rodríguez Centrale E poi per il resto Ragazzi Formazione confermata Sono contento Di quello che siamo riusciti A fare In questo calcio mercato Io direi che Un voto positivo Ce lo mettiamo Ce lo meritiamo Anzi A questo punto Non ci resta che Avanzare nel calendario Fare le ultime dieci ore Abbiamo ancora dei soldi Ma al momento ragazzi Non li voglio spendere Voglio capire bene Questa squadra Come gira Per poi appunto Spendere i soldi Eventualmente appunto Nel mercato di gennaio Offerta per Carnesiz Cinque milioni Mamma mia Carnesiz Se quest'offerta Mi fosse arrivato A prima Avrei praticamente Preso Joao Felix Ok Che poi con la clausola Avremmo anche strapagato Però Avremmo fatto il colpo Da 90 Comunque Accettato Anche se non c'è tempo Carnesiz Tutto il tempo Sul mercato All'ultima ora Arriva l'offerta Per Carnesiz Va bene Va bene Va bene Mi è arrivata ragazzi Un'offerta per Goulam A questo punto Visto che abbiamo preso Alexandro Goulam si può vendere Lo perderemo anche a gennaio 21 milioni Quindi trattiamo E vediamo se riusciamo A chiedere 21 milioni Al Chelsea Per Goulam Ovviamente sono soldi Che ci arriveranno a gennaio Già ne abbiamo 20 Quindi a gennaio Avranno praticamente 40 milioni Per fare un colpo Ok Vediamo un po' 17 e 5 È la loro controfferta No ne voglio almeno 21 Per Goulam Vediamo un po' 21 secchi Ma l'ha accettato Va bene Non vogliono anche La trattativa salti Ci sta Preso il grandissimo Anzi ceduto Il grandissimo Goulam Anche a gennaio Forse Riusciremo a fare Un buon mercato Anche se sono completamente Soddisfatto Come ho detto prima Della Rosa Che siamo riusciti A costruire Maximo Vici invece Non si tocca Avanziamo Ci siamo signori Siamo arrivati Alla partita Contro la Sampdoria Questa volta Non partecipiamo Alla conferenza Stampa Andiamo a vedere La formazione Perché voglio schierare Ovviamente Sempre questa squadra Fabian Ruiz Se non sbaglio È salito a 84 Perché se non sbaglio Ero 83 E anche Ziris Da 81-82 Goulam È contento Goulam Però al momento Prevenisco schierare Questi giocatori qui Pure Meret È salito ad 80 Bravo Meret Ti voglio bene Perché potevo prendere Un altro portiere Invece no Voglio puntare su di te Questa qui è la squadra E andiamo a sfidare La Sampdoria Queste qui signori Sono le divise Maglietta bianca Anzi ci capiamo Maglietta nera Per la Sampdoria Queste qui sono le squadre E noi signori Ci vediamo In campo Ci siamo signori È tutto pronto Massima concentrazione Con i pali palleggiati Con la terza gamba Ragazzi avete visto Un po' che non si è visto bene Perché ovviamente Non possono trasmettere Queste immagini A certe persone Però si è visto Il topo con la terza gamba Va bene Schipiamo tutto Andiamo a giocare Perché dobbiamo fare I tre punti Le squadre sono in campo E inizia adesso Napoli Sampdoria Ames Mettila dentro Mertens Mertens Guarda Allan 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 Non è vero Non è Allan Poisono è sminta Mertens il turfo E lo sbaglia Clavorosamente a porta vuota Mertens Attacca la Sampdoria Attenzione qua Il cross Ragazzi ho portato Quagliarella al volo Mio dio signori Ma chi è? Gareth Bale Non facciamo sciocchezze qua Non facciamo sciocchezze Dai però Per cortesia Quagliarella Rolando Parata incredibile E come però cambiano le cose Gli va lì Ma che fortuna Ho capito Ho sbagliato il passaggio Ma che fortuna Occhio E la Madonna Quagliarella E la Madonna Ci mancava il gol in Quagliarella Di rovesciata Il gol di Quagliarella Di rovesciata Ci mancava solo questo E poi me ne andavo Staccavo tutto ragazzi 66esimo Pallone dentro Occhio Quagliarella Miracolo E poi Alessandro Spazza via E adesso stiamo soffrendo ragazzi Adesso stiamo soffrendo Contro la Sampdoria in casa Contropiede Mertens Per insegne Fini in fondo Non è Fini in fondo Mettila dentro Mertens allarga per Kayekon 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 Giuseppe Maria Kayekon Due di recupero E non c'è più tempo 1-1 Va bene così ragazzi Va bene così Diciamo che Va bene così La difficoltà è ancora da valutare Perché secondo me Un calo di difficoltà Ci vuole Per prendere la mano Su questo gioco Per capire come difendere Per capire come tirare Per capire come attaccare Secondo me Un cambio di difficoltà Almeno Nelle prime partite Ci vuole Non dovevamo partire subito Con la difficoltà Ultimate Alexandro Ha lasciato molto a desiderare Come spiega il suo esordio Sottotono Oh mio dio Può fare di più Non è facile Abbiantarsi in una nuova squadra Ok E lui infatti Si rassicura un po' Perché ovviamente Appena è arrivato Mettiamola così Diciamo che non è facile Abbiantarsi in una nuova squadra Zielinski Se Zielinski avesse giocato Ha giocato Zielinski L'ho messo in campo Durante la partita Non è una priorità La responsabilità È tutta mia Così Zielinski è felice E magari Facciamo capire a Zielinski Che forse Potevamo schierarlo Dal primo minuto Quindi ci sta Ci sta come cosa Per quanto riguarda Invece la squadra In generale Un punto Visto come sono messo Le cose all'intervallo Questa qua è una domanda Intelligente Perché Si mi aspettavo Di conquistare Almeno un punto Mettiamola così E il morale La scena di Quagliarella Abbiamo veramente Riscato la panchina Veramente la panchina La squadra Sampo Doria Sprega troppo Contro la formazione Napoli Ma è sempre la stessa frase Copiata e incollata Perché pure con la Fiorentina Che abbiamo dominato C'è scritto che la Fiorentina Spregava troppo Vabbè In questo caso è vero Perché la Samba Ha veramente spregato troppo Comunque ci sta Accettiamo questa notizia Bellissima A questo punto ragazzi Io direi di avanzare Per giocare La prima partita Di Champions Offerta per Akkadius Milik Attenzione Seve venduto Invese venduto Offerta per Akkadius Milik Dal Chelsea Raga Milik si vende solo Per un'offerta pazza Il Bayern Monaco Si è arrabbiato Con noi Perché ho chiesto 70 milioni Ma per 70 Io lo vendo Quindi trattiamo con il Chelsea Vediamo se accettano I 70 milioni Per Akkadius Milik Rinegoziamo i termini 70 secchi Per il nostro Milik Vediamo un po' Cosa ci dicono 46 e 4 Non lo vendo per così poco Ragazzi Akkadius Milik Non lo vendo per così poco 65 A fare fatto Ho fatto bene Ho fatto male 65 milioni Per Akkadius Milik Fatemi sapere qui sotto Nei commenti Se ho fatto bene O ho fatto male A cedere Milik Per 65 milioni Non lo so Ovviamente lo perderemo A gennaio Se trova l'accordo E a gennaio Prenderemo un'altra punta Qualcuno giovane Per adesso c'è Mertens Ma ovviamente Ci sarà tempo Per cercare Un altro giocatore Da acquistare Per migliorare Questa squadra Detto questo ragazzi Il video Io lo chiudo qui Questo perché Sto giocando a FIFA 20 Grazie agli iaccess Di conseguenza Ho solo 10 ore Per poter giocare a FIFA Di conseguenza Me ne devo suddividere bene Durante questi giorni Non so quando è durato questo video Il primo secondo me è durato anche tanto Questo qui forse è durato un po' di meno Non lo so Me ne accorgerò solo quando Andrò a editare il video Se è durato poco Sappiate che perché Non posso fare anche questa partita Quando il 24 avrò l'accesso Illimitato Al gioco Potremo fare anche il video Di 67 minuti Va bene? Io signori Vi saluto Vi ringrazio Non perdetevi assolutamente Il prossimo episodio Perché abbasseremo La difficoltà Vedremo un po' Di fare Tre punti ragazzi Lecce Cagliari E Brescia Il Napoli Deve fare Tre vittorie Su tre Contro queste squadre Poi ovviamente Inizieremo anche Il girone di Cebbi Molto molto difficile Ma per recuperare il campionato Queste tre Vanno assolutamente Giocate E vinte E lo faremo ovviamente A difficoltà leggenda E non a difficoltà ultime Quando hanno preso la mano Passeremo a difficoltà ultime Detto questo ragazzi Io vi saluto Vi ringrazio Ci vediamo domani Bella Ciao